Soldi alle imprese per l'area di crisi, 8 milioni di euro destinati a 48 aziende sono stati messi a disposizione, un primo passo concreto ha detto il governatore Toma ma siamo in ritardo e le risorse sono insufficienti, 4 mesi senza neurochirurgia, dai documenti dell'ASREM emerge che il protocollo con il Neuromed non era stato rinnovato, il piano scaduto a marzo ma solo a metà luglio decisa la nuova intesa, more sulla trignina commozione ad Agnone, nel pomeriggio i funerali di Michele Sallustio, l'uomo era molto conosciuto per la sua attività turistica, ennesimo incidente sulla trignina. Ladri in azione nei market di Via Corsica, svaliggiati due supermercati alla periferia sud di Termoli, filmati hanno ripreso i malviventi che hanno sfondato le casse forti con un muletto. Società le prese con le iscrizioni ai tornei, giovedì il termine entro il quale perfezionare la pratica in eccellenza e promozione, stessa scadenza per il Campobasso che deve completare la documentazione per l'AD, Grillo firma con il vasto Girardi. Buon pomeriggio dalla redazione, un saluto a tutti voi e bentrovati all'edizione delle 14 del telegiornale. Dunque si muove l'area di crisi, il sostegno alle aziende, un primo passo lo ha definito il governatore Toma che poi ha sottolineato due anni di ritardo e fondi insufficienti con evidente riferimento alla precedente amministrazione. Ma intanto 8 milioni di euro sono sul tavolo per 48 aziende, sentiamo i dettagli nel servizio di Pasquale Di Bello. 8 milioni di euro destinati a 48 imprese afferenti all'area di crisi complessa e il primo intervento concreto ha sottolineato il presidente della regione molise Donato Toma anche se arriva con un ritardo di due anni. Fondi ancora insufficienti, ha sempre detto Toma, poiché la dotazione complessiva pari a 15 milioni di euro risulta del tutto inadeguata rispetto all'effettivo fabbisogno. Le risorse stanziate riguardano aiuti per gli investimenti macchinari, impianti e beni intangibili e per l'accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Io ritengo che 15 milioni di euro siano pochini, stiamo vedendo di coinvogliare altre risorse su questa misura. In realtà abbiamo finito l'esame del patto per il Molise per cui riprogrammeremo alcune misure, altre invece sono pronte già per essere erogate principalmente alle imprese ma non solo alle imprese. Stiamo parlando anche di enti, comuni, stiamo parlando di cooperative, stiamo parlando di associazioni. 48 imprese è il rilancio produttivo di cui 7 nuove imprese e le altre 41 sono imprese invece che si ampliano. Si tratta di piccole imprese, abbiamo superato una contribuzione di oltre 8 milioni di euro. È un segnale concreto, avevo promesso dei segnali concreti ma non è l'unico, ce ne sono stati altri. Continueremo su questo segno, su questa direzione anche perché abbiamo la necessità di impegnare prima di fine anno quante più risorse disponibili per certificare la spesa. Dall'operazione a valere su risorse POR, FESR ed FSE è stimato un incremento di 280 posti di lavoro. Condizione infatti per l'accesso ai fondi è che le ditte procedano all'assunzione di nuovo personale, un primo passo in positivo secondo il presidente Toma. In nove regioni, tra queste il Molise, il 100% dei comuni è a rischio dissesto idrogeologico. Il dato è stato presentato oggi alla Camera dei Deputati nel corso di una conferenza stampa ed è stato elaborato dalla Direzione Nazionale delle Autorità di Bacino in Molise. Sono moltissimi comuni che hanno già situazioni di dissesto conclamato e che hanno sollecitato interventi tra i casi più recenti, quello della protesta di Civita Campomarano escluso dagli interventi regionali per il risanamento delle frane. Parliamo ancora di sanità perché si è capito che per quattro mesi non ha funzionato il servizio di neurochirurgia perché mancava il rinnovo dell'accordo tra l'ASREM e la Neuromed. Lo certificano i documenti della stessa azienda sanitaria. Sentiamo. A distanza di pochi giorni dalla morte del 47enne di Larino per presunta malasanità e dopo la poderosa manifestazione del Vietri, carte alla mano, si scoprono notizie clamorose circa la disorganizzazione eclatante del sistema sanitario regionale. In particolare è venuto a galla il misterioso protocollo d'intesa tra ASREM e Neuromed per la gestione delle emergenze conseguenti a patologie neurochirurgiche. Scaduto il 31 marzo 2018 è non prorogabile se non con ulteriore protocollo sottoscritto tra le parti. Analizzando i documenti viene fuori che per circa quattro mesi la regione è rimasta senza alcuna regolamentazione di tali emergenze. Regolamentazione peraltro imposta dalla legge sui piani operativi straordinari dopo la chiusura di fatto del reparto di neurochirurgia al Cardarelli di Campobasso. Infatti il direttore generale dell'ASREM, Gennaro Sosto, come è scritto nella delibera, solo il 12 luglio 2018 ha chiesto al subcommissario e alla direzione generale della salute di rinnovare il protocollo scaduto il marzo 2018. Il direttore generale della salute, Lolita Gallo, fresca di rinomina al posto che occupava già con Paolo Frattura da parte del presidente della regione Donato Toma solo il 17 luglio 2018, ovvero, guarda caso, il giorno del tragico evento capitato al 47enne di Larino, ha autorizzato il rinnovo del protocollo tra ASREM e Neuromed e ha approvato la bozza di convenzione che diventerà operativa il giorno successivo alla firma. Al momento non è dato sapere se l'intesa sia stata rinnovata perché sulla bozza in nostro possesso mancano le firme, ma resta comunque il fattaccio che dal 31 marzo 2018 ad oggi i molisani a loro insaputa sono rimasti senza alcuna assistenza neurochirurgica, una patologia dove quasi sempre i tempi di intervento fanno la differenza tra la vita e la morte. Come mai il direttore generale dell'ASREM, Gennaro Sosto, si è ricordato solo il 12 luglio 2018 di richiedere il rinnovo del protocollo con Neuromed e come mai la rinnovata Lolita Gallo alla Direzione Generale della Salute ha risposto solo il 17 luglio, ovvero il giorno del calvario del 47enne di Larino, deceduto all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sono domande queste alle quali dovranno rispondere sia i diretti interessati sia il Ministero della Salute. Come è noto, sulla morte del 47enne di Larino, la procura ha aperto un'inchiesta. Sulla scandalosa vicenda del protocollo è intervenuto il legale del Forum della Sanità Pubblica di Qualità Massimo Romano. Il protocollo precedente, firmato nel marzo 2017, prevedeva chiaramente che la durata fosse limitata a un anno e non fosse prorogabile tacitamente. Questa circostanza, insieme a tante altre, è stata oggetto di ricorso al Tarmolise proposto dal Forum per la Sanità Pubblica di Qualità proprio per attenzionare agli organi di controllo che c'era una situazione di probabile vuoto normativo, tale da non rendere chiara la disciplina della gestione appunto dei casi di emergenza neurochirurgica. Strano che questo fatto dell'accordo stipulato guarda caso proprio il giorno della tragedia di Larino non sia stata riferita da tutti quelli che hanno ritenuto di intervenire, penso alla Regione che non mi pare l'abbia citato, neanche la ASREM e nemmeno Neuromed che si è affrettata a dire che il posto letto c'era ma che in realtà la ASREM non ha ritenuto di interpellarla per avere questa disponibilità. È tutto chiaro, è tutto fin troppo chiaro. Intanto si attendono le decisioni degli ispettori ministeriali inviati a Termoli dal Ministro della Salute Giulia Grillo. E si svolgeranno oggi ad Agnone nella Chiesa San Marco i funerali di Michele Sallustio, vittima dell'ennesimo incidente sulla Fondovalle del Trigno, Sergio Di Vincenzo. Ad Agnone lo conoscevano tutti e tutti gli volevano un gran bene. Al Santa Lucia Park, l'attività gestita da Michele Sallustio, ci si andava per un tuffo in piscina, per praticare pesca sportiva o per fare un picnic. Bastava un attimo per entrare in sintonia con lui. L'incredulità, il dolore e le testimonianze d'affetto nei suoi confronti hanno letteralmente invaso i social. La sua morte ha scosso anche San Pietro in Valle, frazione di Frosolone dove era nato e dove vivono alcuni suoi familiari. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio sulla Trignina, nel territorio di Civitanova nel Sannio, sul viadotto posto a manciata di chilometri dal Bivio per Bagnoli del Trigno. Michele Sallustio, alla guida della sua Hyundai Station Vagon, stava procedendo in direzione Sernia. Per cause che accerteranno i carabinieri, ha perso il controllo della sua auto, che è andata a schiantarsi contro un camion dell'Iveco. La Hyundai si è letteralmente accartocciata. Per il 54enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo. Oltre ai militari dell'arma, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini dell'ANAS. Sul posto anche un'ambulanza del 118, notevoli disagi al traffico. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. I mezzi sono stati deviati verso Agnone e Pietrabbondante, in modo da consentire ai vigili del fuoco di rimuovere mezzi incidentati e al personale dell'ANAS di rimettere in sicurezza la strada. Nel frattempo i carabinieri continuano a lavorare per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso che la Hyundai di Michele Sallustio sia sbandata a causa della pioggia. Oggi ad Agnone, nella chiesa di San Marco, l'ultimo saluto. Intanto a Isernia la comunità Roma ha ricordato Vincenzo Sarachelli, scomparso un mese fa sull'autostrada con una fiaccolata. Sentiamo ancora Sergio di Vincenzo. Vincenzo Sarachelli era un gran lavoratore. Sposato, padre di sei figli, dava l'anima per mandare avanti la famiglia. Il mese scorso stava raggiungendo un cantiere in autostrada. Costretto a fermarsi su una piazzola di sosta della Bologna a Padova, fu travolto e ucciso da un tir. In occasione del suo 43esimo compleanno, parenti e amici lo hanno ricordato con grande affetto. In tanti hanno partecipato all'iniziativa organizzata nel quartiere San Lazzaro dall'associazione Rom in Progress, che ha così voluto realizzare un desiderio dei familiari della vittima. In prima fila c'erano anche figli di Vincenzo. Dalla chiesa di San Giuseppe il lavoratore un lungo corteo ha raggiunto la sua abitazione. Poi, dopo un giro per le vie del quartiere, di nuovo in piazza Palmerini. Con questa fiaccolata, ha commentato Concetta Sarachella, presidente dell'associazione Rom in Progress, oltre a ricordare una persona a noi molto cara, abbiamo voluto evidenziare le discriminazioni che subisce la nostra etnia. Vincenzo era un lavoratore che faceva grandi sacrifici per dare un futuro ai suoi sei figli, ma la sua morte non ha fatto clamore perché Rom. Al contrario, se fosse stato lui a investire un italiano, ha concluso, si sarebbe sollevata l'ennesima campagna d'odio razziale nei nostri confronti. I carabinieri di Boiano hanno arrestato un 38enne per detenzione e spaccio di droga. L'uomo aveva con sé due involucri con una sessantina di grammi di cocaina. Altre sostanze stupefacenti li sono state trovate a casa dopo la perquisizione. Il 33enne è stato portato in carcere a Campobasso. Ed è di 20 mila euro in denaro e anche oggetti d'oro e preziosi. Il bottino di un ride avvenuto stanotte lungo Via Corsica. I ladri, almeno in cinque, hanno preso di mira due supermercati, hanno sfondato le casse forti con i muletti e con molta probabilità hanno derubato anche alcune abitazioni. Le immagini del furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il racconto di Fabrizio Occhionero. Sono stati ripresi dalle telecamere piazzate nei locali del supermercato Gran Risparmio di Via Corsica a Termoli, una delle strade principali di accesso alla città. In cinque, incappucciati e coperti dalla mimetica, hanno studiato nei dettagli il furto con scasso. Per più di mezz'ora, nella notte, in giro indisturbati tra i reparti e gli scaffali, forse un'altra persona a fare da palo al ridosso della ferrovia, dove hanno ricavato anche un passaggio nei cancelli per scappare. Fabrizio Caputo, titolare del supermercato, racconta così quello che ha definito un vero e proprio disastro. Sono entrati prima dalla porticina esterna alla frutta sopra e poi da sotto hanno sfondato la porticina e col muletto hanno portato fuori le cassaforti. Cosa hanno preso? Soldi e anche l'oro di famiglia. I danni anche sono ingenti? Eh sì, poi vabbè, l'ufficio distrutto, la porta che non si capisce, che il muletto pure l'hanno rotto. Dalle prime stime la banda ha portato via circa 20.000 euro in contanti tra i cassetti dei registratori e le due pesanti casseforti, aperte dopo aver sfondato il muro del magazzino e anche il valore dell'oro e dei preziosi di famiglia ammonta da alcune migliaia di euro. Accertamenti in corso, mentre continua la conta dei danni e sono in corso le indagini della polizia e dei carabinieri. Verifiche sui filmati, rilievi e altri elementi per cercare di risalire l'identità dei malviventi e trovare riscontri anche sull'altro furto compiuto nella notte. Quello al discount MD, sempre lungo via Corsica. In questo caso sono stati portati via circa 1.500 euro. Tanta amarezza nel racconto del titolare, del gran risparmio. Chiedete più controlli? Cosa occorre? Sì, sicuramente, perché ultimamente sono successi vari, oltretutto è successo anche qua vicino all'MD, quindi la notte non è tranquilla. Torniamo alla politica. Nasce a Campobasso la Casa del Popolo, un'istituzione che è molto comune, soprattutto in quelle regioni che vengono definite rosse. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Pasquale Di Bello. In un clima generale di disimpegno e nel bel mezzo di una fase politica definita post-ideologica, nasce a Campobasso la Casa del Popolo, una benemerita iniziativa promossa dalla sinistra cosiddetta antagonista, quella che si ritrova nella neonata formazione Potere al Popolo. Una iniziativa schierata dalla parte delle categorie meno garantite, come quella dei lavoratori precari, a tutela del territorio e dell'ambiente, a favore delle persone più fragili e con una fortissima attenzione al sociale. Varie le iniziative già approntate, come quella dello sportello legale, a favore dei lavoratori precari, un team di legali guidato dall'avvocato Caterina Ciaccia. A presentare l'iniziativa insieme allo stesso avvocato è stata Chiara Santone. Credo che appunto in una politica, in una società che è completamente cambiata negli ultimi vent'anni, quello che va ripensato è proprio il modo di fare politica. Lo abbiamo fatto riportando in auge qualcosa che è sempre stato presente nella vita di moltissimi comuni italiani dal secondo dopoguerra, cioè le case del popolo. Questo perché? Perché pensiamo che la politica debba essere di nuovo al centro del dibattito dei cittadini e perché pensiamo appunto che sia importante che le decisioni non vengano più solo dall'alto, ma vengano condivise proprio attraverso un lavoro che è un lavoro orizzontale, fatto di mutualismo, perché crediamo che questo sia l'unico modo per comprendere e capire gli enormi stravolgimenti sociali che stanno attraversando il paese negli ultimi anni. All'interno della Casa del Popolo anche uno sportello gestito dall'USB, un presidio sindacale, come ha sottolineato Sergio Calce, segretario regionale dell'Unione sindacale di base. Questa presenza è importantissima sul campo basso che poi rispecchia tutta la regione con uno sportello per dare ascolto ai disoccupati, ai lavoratori, alle persone degli sfratti, ai precari e abbiamo fatto questa scelta per rilanciare sicuramente un certo discorso dal punto di vista sindacale e cercate di attrarre le persone per cominciare a parlare in questa regione di un piano di sviluppo regionale. Ci sono arrivate delle pagine e nelle pagine che dicevano praticamente le programmatiche noi diciamo che va bene gli investimenti con l'ABEI, con la Cassa dei Prozzi dei Prezi, ma dietro ci deve essere un progetto, un piano industriale e un piano di filiera per rilanciare nella nostra regione. Ecco perché questa scelta nel capoluogo dove la USB avrà delle opportunità importanti affinché possa attrarre persone e rilanciare un pezzo di economia in questa regione. Insomma di fronte al crollo delle ideologie, al cinismo e al disimpegno imperanti c'è ancora chi riesce ad andare, per dirla alla De Andrè, in direzione ostinata e contraria. Comunque la si pensi, questa è una iniziativa da salutare con favore. E oggi a Termoli gli Oscar Green del 2018, manifestazione promossa dalla Coldiretti per premiare le aziende che si sono distinte per la loro produzione sostenibile, quattro le categorie premiate, altrettante aziende locali che partecipano a Campagna Amica, la cerimonia di premiazione in programma nel pomeriggio alle 17.30 al Circolo della Vela a Termoli. Adesso apriamo la pagina delle iniziative dell'estate, cominciamo con San Polo Matese e la rassegna degli zampognari, il servizio di Valeria Farina. Ritmi intensi e suoni antichi, melodie inaspettate e arrangiamenti diversi dal solito. In occasione della 19esima edizione Zampognari d'Italia, la zampogna nel Matese, tanti sono stati gli appassionati che sono arrivati a San Polo per l'occasione. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Zampognari del Matese con il patrocinio del Comune. La 19esima rassegna si è diventata maggiorenne, ci impegniamo sempre di più per far sì che questa rassegna raccolga sempre frutti migliori. Sono venuti un po' da tutto il centro Italia, una massiccia partecipazione. Una giornata all'insegnata il confronto e delle melodie delle vecchie zampogne, da quelle pugliesi a quelle molisane fino a quelle da Bruzzo e Campane. Ad accompagnare lo strumento protagonista della manifestazione sono state le ceramelle, l'antica totara e qualche organitto. Una manifestazione dunque che ha celebrato l'antica cultura musicale sampolese. Ogni anno noi cerchiamo di portare avanti queste nostre tradizioni. San Polo è il paese degli zampognari, no? Scapoli e delle zampogne. Abbiamo questo connubio e portiamo avanti questa tradizione fondamentale secondo me anche per tutto il Molise. Oggi è giorno di grande festa per San Polo, trionfa la cultura, trionfa la tradizione ma principalmente trionfa la festa perché oltre ad essere la festa della zampogne è anche il santo padrono San Nicola. Quindi tutta la comunità oggi si attiva come meglio può per far riuscire a meglio questo evento. Durante l'arco della giornata a catturare l'attenzione dei partecipanti è stato anche il demologo musicale Mauro Gioielli che ha presieduto al convegno le antiche zampogne dall'utriculus latino alla sordellina barocca. Soddisfazione ed entusiasmo da parte degli organizzatori per la riuscita della rassegna. Maria Emanuele, voce dell'associazione gli zampognari del Matese, è stata anche direttrice artistica dell'evento. Una rassegna molto sentita perché anche quest'anno io ringrazio tutti che sono venuti non solo dal Molise ma anche da altre regioni, anzi molti da molte regioni d'Italia, di cui dal Lazio, dalla Calabria, dalla Puglia, dall'Abruzzo, dall'Umbria e veramente questo non ci fa che onore. Mostra di pittura invece organizzata nel centro storico di Sernia, sentiamo la nostra redazione. Sapori del territorio, è stato questo il tema scelto per l'estemporanea di pittura organizzata nel centro storico di Sernia dal Rotary Club. Diversi gli obiettivi dell'iniziativa, oltre a raccogliere fondi da destinare in beneficenza, si è scelto di valorizzare le peculiarità di della provincia e i suoi artisti. Al tempo stesso, coinvolgendo anche giovani talenti stranieri, si è inteso dare un segnale concreto di integrazione, ha spiegato il neopresidente del Club della Ruota Dentata, Pasquale Corrado. È un'associazione fra territorio e cibo. Spesso quando si parla di cibo e del territorio c'è una particolare attenzione. Ma l'abbiamo voluto fare attraverso, come dicevo prima, la valorizzazione del territorio, quindi prendendo come spunto nell'arte, come avete avuto modo di vedere, ci sono artisti locali e quindi valorizzare le risorse umane, ma anche nell'ambito di un'integrazione sociale. Tant'è vero che avete avuto modo di vedere che c'è un ragazzo dalla costa d'Avorio che si sta cimentando, dando la sua massima creatività e poi valorizzare il territorio, quindi quella che è la nostra sostanzialmente cucina. Tutto questo ovviamente a scopo benefico perché il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per stimolare l'estro e la creatività dei giovani artisti coinvolti si è dunque scelto di puntare su una delle eccellenze della nostra terra, l'enogastronomia. Sto rappresentando i sapori della nostra terra, il Molise. Una bella manifestazione, una bella idea perché anche a scopo, cioè per beneficenza, quindi è bene che nel nostro paese si facciano delle iniziative così. Sto facendo un po' la fiera della cipolla, nel senso sto rappresentando un po' la festa della cipolla per dimostrare un po' in Molise come abbiamo questa passione che è la cipolla e anche altre cose che sono come il fromaggio, anche cose buone della cucina. Io vengo dalla corsa d'Avorio e sto facendo il liceo artistico con i miei amici e mi piace andare a scuola e anche a disegnare perché l'arte è un po' la mia anima. Un residente di Ielsi ha donato al paese la statua di San Pio e naturalmente ringraziamo ringraziamenti e festa grande. Vediamo. Un chiaro e tangibile segno di fede e di devozione verso San Pio. A Ielsi la comunità durante un momento fatto di canti e preghiere ha ricevuto in dono da parte di un loro compaesano un angolo dedicato al santo di Pietrelcina. Emozionato e soddisfatto Giuseppe Campolieti che è riuscito a realizzare il desiderio che da tempo serbava nel cuore. È da tempo che ho questo pensiero qua, è da tempo che sono tre o quattro anni che ho padre Pio a casa, però è arrivato il momento che mi hanno dato un angoletto qua, ringrazio il sindaco per avermi dato questo angolino per mettere il padre Pio. La comunità ha preso parte all'inaugurazione insieme al primo cittadino Salvatore D'Amico. Molte famiglie sono devote al padre Pio, questa famiglia in particolare ci teneva da tempo a donare alla parrocchia Ielsi la statua di padre Pio. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile a livello amministrativo, abbiamo dato in comodato d'uso alla parrocchia un pezzo di terreno vicino alla scuola perché ritengo che i ragazzi devono vedere determinati simboli per rendersi conto di tutto. Don Peppino Cardegna, parroco del paese, ha ribadito e sottolineato il legame che c'è tra gli Ielsesi, la devozione per padre Pio e la fede verso la compatrona Sant'Anna. Sì, un dono bello, significativo che il paese già attendeva da diverso tempo. Poi avviene nel calendario della festa di Sant'Anna. Pensate, padre Pio è nato il 25 maggio del 1887 e il giorno dopo, il 26, viene battezzato nella chiesa di Sant'Anna. Allora, il 26 per noi è il comple mese perché ogni 26 del mese noi preghiamo Sant'Anna, baciamo la reliquia, accendiamo la lampada della pace con il collegamento con l'Oriente, con i martiri cristiani dell'Iraq e della Siria, con il ricordo delle vittime di questi anni e anche quel gemellaggio bello che abbiamo con Monsignor, ora Cardinal Luis Sacco, patriarca di Baghdad. Quindi padre Pio e Sant'Anna è un tutt'uno. Soddisfatto il presidente del comitato Festa del Grano che dopo questo appuntamento, fatto di fede e profondo spirito di comunità, ha dato appuntamento alla tanto attesa data del 26 luglio, giorno di Sant'Anna. Ripartiremo il 25 con la festività di Sant'Anna, con i gruppi folkloristici, rientriamo nel passato, facciamo una prima serata del folk, poi il 26 saremo qui, vi aspettiamo tutti per la tanto attesa giornata della sfilata in onore di Sant'Anna, poi dopo la sfilata la sera ci sarà il concerto di Alexia e poi proseguiremo fino al 31 con festività sempre più belle. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Vox Populi, la trasmissione di Michele D'Alessio, si parlerà del premio di Castel del Giudice, l'appuntamento è su Telemonise alle 21, è tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, ci vediamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti, grazie e a più tardi.